Anche quest'anno il comune di Seminara ha voluto far rivivere l'antico borgo di Baritteri con il suo presepe vivente, giunto alla seconda edizione. Proprio nella parte antica della frazione di Seminara è stata ricreata la suggestiva atmosfera natalizia facendo rivivere lungo le viuzze del borgo i luoghi della piccola Betlemma ai tempi della nascita di Gesù, animato da pastori, artigiani, centurioni e re, il presepe vivente non poteva non ospitare al suo interno la cultura e le tradizioni dei nostri luoghi. Il comune ha puntato infatti anche sulla valorizzazione e la riscoperta dei luoghi antichi, ristrutturando per l'occasione l'antico lavatoio dove un tempo le massaie vi si recavano a fare il bucato. L'evento è stato organizzato dall'associazione Procivitas, con la collaborazione del comune di Seminara e la numerosa partecipazione da parte dei cittadini seminaresi. Siamo alla seconda edizione del presepe vivente in questo meraviglioso e splendido borgo antico di Barretteri, che è una frazione appunto di Seminara. Quest'anno si è voluta riproporre questa natività con i personaggi reali per dare risalto e spirito al significato religioso della manifestazione in primis e poi per mostrare a tutti i visitatori le bellezze della parte antica di questa bellissima frazione. Infatti rispetto alla precedente edizione abbiamo ulteriori personaggi rappresentati e abbiamo esteso il campo di rappresentazione ad altri posti che l'anno scorso erano esclusi. Quindi questo ha richiesto un lavoro non indifferente da parte del comitato dell'associazione Procivitas che l'ha organizzato, di tutti i membri della stessa associazione e di quanti hanno avuto a cuore, quasi tutti, questo mi sento di dirlo e con affetto a tutti gli abitanti dei Barretteri, i miei concittadini, che si sono prodigati per far sì che questa manifestazione potesse essere realizzata e potesse dare un'immagine positiva e un risalto altrettanto positivo alla nostra comunità. E' emozionato perché invitato da Don Antonio che è il parroco di questo borgo di Barrettieri sono venuto per portare la benedizione della Chiesa anche a queste iniziative che sono certamente iniziative di evangelizzazione, di nuova evangelizzazione attraverso il portare in mezzo alla nostra città, quella città di un tempo che si prepara ad accogliere Gesù bambino, ecco è sempre emozionante, è un qualcosa che emoziona il cuore. Quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo toccato una parte più suggestiva e più antica del paese, peccato che le condizioni non ci hanno dato la possibilità di fare alcuni effetti che il fuoco, le torce sono state spente e altre postazioni che dovevamo mettere dei mobili particolari e l'acqua l'avrebbe rovinato. Il ringraziamento lo facciamo a tutti i miei cittadini, in particolare al mio fianco Censino Meridoni che ci ha dato veramente una mano grandissima per i lavori che sono stati effettuati, ma non solo lui, Antonio Brilla, Raffaele Sigillò, Natale Modafferi, Antonio Cannizzaro, Rocco Cannizzaro, insomma sono stati in tanti. Mi fermo qua perché poi magari mi dimentico qualcuno e vorrei anche ringraziare il comune, il sindaco con l'aiuto come sempre, gli sponsor, sia quelli presenti nel manifesto e anche tutte le altre attività che hanno comunque contribuito e niente, mi pensavo. Da metà a novembre, perché pensate che molte di queste case in pratica erano completamente rovinate, abbiamo ricostruito porte, finestre, pavimenti e abbiamo tirato fuori una grotta che era un rifugio della guerra, il vecchio lavatoio in pratica non esisteva più e l'abbiamo ripristinato e un mese e mezzo di lavoro. Per Natale 2015 ci saranno delle sorprese, perché sappiamo di altri posti da scoprire ancora, quindi speriamo in bene.